Quando è stato venduto questo terreno, i cittadini della zona di Porta Lucca non sono stati avvisati, cioè noi siamo stati considerati zero. Non si arrendono alcuni residenti del quartiere pisano di Porta Lucca, contrarie all'idea di vedere sorgere una moschea intorno alle loro abitazioni, esprimono tutto il loro disappunto ai nostri microfoni. Mi sembra un luogo assolutamente inadeguato per una massa c'è di gente, mi parlano di 800 c'è persone, la via è stretta, l'ambisce una via molto c'è trafficata per cui è anche molto c'è pericolosa. Poi una considerazione che faccio in quanto ci sono c'è cattolico, una persona che proviene da Lucca, che è una città estremamente c'è cattolica, avrà come biglietto da visita una moschea a Pisa e Pisa è un segno, un simbolo della cristianità. La cosa che a me fa più arrabbiare è l'accanimento che c'è stato di costruire la moschea proprio qui a 400 metri dalla torre, sono state date tante opportunità di farla da altre parti, quelle sono state rifiutate, questo è uno schiaffo alla città.